è un derby in casa bologna quello che ci sarà tra un mese svezia e italia lo spareggio per andare ai mondiali philippo chi è favorito lo so no secondo me l'italia si lo fanno posto per provocarti no vabbè dai sulla carta penso che l'italia debba essere la favorita almeno però è l'ander un brutto cliente certo penso che sia comunque una squadra difficile affrontare infatti se non c'è da prendere la sottogamba sicuramente la svezia in casa non perde da più di tre anni vero io non ho mai perso in casa che cosa temete di più dell'italia chi è il giocatore più pericoloso in italia si hanno tanto giocatori forte noi dobbiamo provarsi a fare male anche a loro però certo è una partita molto difficile e se questo trovi dalla tua parte che cosa fai dobbiamo e devo stare attento sempre ma ma vediamo vediamo stai studiando la svezia no ovviamente da casa mi piace guardare le partite e sappia so benissimo che sono comunque anche guardare loro sono una squadra molto fisica sicuramente difficile da affrontare